E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video dove oggi vi mostrerò come mettere le copertine ai video No fake, no troll, velo Allora, basta solo che andate su App Store oppure le vostre store che usate Voi andate in cerca e scrivete IT Studio La scaricate YouTube Studio Questa qua Però pure questa qui Aspettiamo che si aggiorni Allora ragazzi, e voi cliccate su apri ovviamente Se no come l'aprite? Vabbè, vabbè, vabbè Ok Allora adesso ci sono tutti i miei video Andate qua, andate in video Tipo prendiamo un video a caso Tipo Michael Rosen Non so a chi mettere la copertina Mettiamola a questo No, guardate a questo Allora, facciamo così Poi, vedete questa piccola cosetta qua? Qua sopra? E ci cliccate Poi fate miniatura personalizzata Secondo che si devono concentrare Dicevo Fate miniatura personalizzata Ah, non c'è Eh, non so chi mettere E non è che sto qua per assicurare la gente Quanto psicologico Eh, però si mette Guardate Tipo a questa qua Andate nella freccettina Ah, per qua Per qua Ecco E ciao Avete la copertina Salvate E guardate Ora Aspettate Aggiorniamo E ora guardate E ora Il video C'ha questa copertina E ragazzi Per questo video Possiamo concludere qui Spero il video Vi sia stato utile E quindi Per questo video Possiamo concludere qui Ciao ragazzi Iscrivetevi al canale Ciao